Guardiola fa infuriare tifosi. Manchester, Inghilterra, i paragoni già frequenti in passato oggi diventano quasi obbligatori. Il tecnico del siti Pep Guardiola non ha potuto sottrarsi a un commento sulla scomparsa di Pelé. Penso che Neymar abbia detto una grande cosa quando ha affermato che il numero 10 prima di Pelé era soltanto un numero e dopo di lui è diventato qualcosa di speciale. Sottolinea l'allenatore catalano tutti i grandi giocatori vogliono portare sulle spalle la maglia numero 10. Quello che ha fatto per il calcio rimarrà per sempre nel mondo del football. Ne Pelé, ne Maradona non ero ancora nato quando lui giocava sottolinea ancora era fortissimo. E ha lasciato un'impronta importante. Penso che Pelé, come Cruyff, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e Beckenbauer sono giocatori che resteranno per sempre. Hanno fatto tante cose per tanti anni sui campi di calcio. Pelé era in grado di fare tutto. I brasiliani ritengono che sia il migliore della storia, così come gli argentini pensano lo stesso di Messi, di Stefano e Maradona. Personalmente dico che per me il migliore in assoluto è stato Leo Messi. Virgola.